Infinito Potenza, nella prima giornata di campionato i Rosso-Blu portano a casa un pareggio in pieno recupero dal campo di Messina. Di Verrengia il gol del definitivo 2-2 in una partita inaugurata dal vantaggio Lucano con Caturano e passata per la rimonta siciliana grazie a una doppietta di Anatrello. Le formazioni 4-5-1 per il Messina di Modica, Frisenne e Pedicillo sono gli esterni a sostegno di Anatrello. De Giorgio schiere il Potenza con il tridente, Rossetti, Caturano, Dauria, a Felipe la regia del 4-3-3. Dai blocchi di partenza si staccano meglio gli ospiti, Caturano calcia da sinistra su invito di Dauria, Curtosi, c'è e blocca. Duello che si ripete al diciassettesimo, azione in verticale sull'asse Dauria, Felipe, Caturano non trova la porta. A pochi metri dal portiere messinese, smaltiti i pericoli, il Messina prende coraggio, Pedicillo va al tiro dai 22 metri, Cucchietti, c'è e smanaccia in corner. Al ventinovesimo il Potenza passa, schema dalla bandierina, Felipe con il sinistro tagliato, pesca in aria, Caturano che approfitta di un'uscita a controtempo di Curtosi. E lo batte di testa, 0-1, il centro avanti classe 90, riprende la stagione come aveva concluso la precedente, segnando. Il Messina ci mette un po' a reagire, lo fa solo nel finale di frazione, destro di poco alto di Garofalo. Ben differente l'alba del secondo tempo, con il Messina che ribalta il risultato in 5 minuti. Pedicillo semina il panico a sinistra, passa su Novella e dal fondo serve Anatriello. Difesa bruciata, sinistro alle spalle di Cucchietti e 1-1 per l'ex Alessandria. Il film si ripete 5 minuti dopo con gli stessi protagonisti. Pedicillo questa volta crossa a giro con il destro, Anatriello brucia la difesa e un incerto Cucchietti. Il colpo di testa vale il 2-1. Il centro avanti classe 2004 segnerà anche il Tris sugli sviluppi di una giocata sull'asse salvo, Frisena salvo, ma a gioco fermo per posizioni irregolari. Nel finale il Potenza indossa un abito a trazione anteriore con gli innesti di Vilardi e Schimenti. Proprio quest'ultimo è atterrato così da manetta, secondo giallo ed espulsione per il difensore messinese. Sulla punizione successiva il grande ex Firenze pennella sulla testa di Verrengia che di testa fa 2-2. modo migliore per festeggiare la cinquantesima presenza con il Potenza non c'era per il difensore che fissa il punteggio sul definitivo pareggio e fa festa con i tifosi arrivati dalla Basilicata. Nel prossimo turno Messina di scena venerdì sera, Cerignola a Potenza in campo, domenica alle 18 in casa contro la Turris.